La Befana in questo 2017 trasformerà la scopa in elicottero per la sesta edizione della Befana volante che comincerà alle 8 e 30 allo stadio comunale di Badia Alpino. La vecchietta scenderà dall'elicottero e si farà strada attraverso tutta la provincia retina. Si dovrà anche preparare al misterioso ingresso che da ben 35 anni rallegra adulti e piccini, la tradizionale festa del quartiere di Porta del Foro. L'evento avrà luogo nel palazzetto dello sport Mario D'Agata dalle 16 in poi. L'intraprendente vecchietta non si fermerà qui ma monterà anche a cavallo presso il centro ippico Comote a San Zeno. L'arrivo è previsto per le ore 16 ma la festa inizierà per tutti già dalle 14 e 30. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Progetto Kairos per musicoterapia applicata alle grave disabilità infantili. Dopo il cavallo è il turno della bicicletta, dalle 15 e 30 partiranno le Befane in bicicletta per una pedalata per le piste ciclabili e i parchi della città di Arezzo. Le signore e signorine sono incoraggiate a munirsi di caramelle, naso e scope per ritrovarsi in piazza Guido Monaco per la partenza. L'escursione è di circa 8 chilometri e può essere percorsa con qualsiasi bicicletta. Per rendere indimenticabile questa giornata la Befana si fermerà anche a San Giovanni Valdarno in piazza Cavour per un divertente pomeriggio di animazione e caccia al tesoro per i più piccoli. Torna come ogni anno anche la Befana Campestre, la corsa per il quindicesimo memoria al Francesco Bertocci. La partenza degli intrepidi che sfideranno il freddo avrà luogo alle ore 15 presso la polisportiva di Policiano. Ma non finisce qui, il 6 gennaio inizierà la prima edizione della Befana Maranto, organizzata dall'Unione Sportiva Arezzo. Scenderanno in campo gli esordienti B per giocare partite 9 contro 9. L'arrivo della Befana è previsto nel pomeriggio. Per chi invece non vuole aspettare il 6 gennaio, la Befana passerà un giorno prima a Soci, nel comune di Bibbiena, a bordo del carro allegorico per portare doni lungo le vie del paese.